ciao sono emiliano caldi dell'agenzia immobiliare maxi dal case oggi ti presento la villa roma o amor su richiesta dei proprietari è una villa che si trova in zona valle santa una recente costruzione in ottimo stato abitata da una famiglia di quattro persone e con degli ambienti luminosi una villa angolare tantissimo giardino che dopo vi accompagnerò a vedere in parte pavimentato e in parte verde entrando nella casa e ci troviamo subito nella zona giorno che è un bel salone vivibile con tantissimo spazio poi loro hanno adottato una scelta nell'arredo di mettere un tavolo allungabile quindi in questo momento è stato è stato tolto e originalmente questo ambiente che vi sto inquadrando era un soggiorno con angolo cottura ma loro nella personalizzazione di casa hanno deciso di fare una cucina più che abitabile separata eccola qui veramente stile villa americana per intenderci un po questa zona giorno con la zona cucina pranzo in questo livello è completato da dietro questa porta un ripostiglio molto capiente un ripostiglio lavanderia di circa quattro metri quadri e un primo bagno completo di sanitari tazza bidet doccia e mobili da babbo quello che ti colpisce di questa casa è lo stato in cui la tengono i proprietari ottimo in modo veramente ben tenuto e soprattutto dopo quando andremo sull'esterno il grandissimo spazio fuori che loro hanno attrezzato in una maniera veramente conviviale ecco primo piano come tutte le ville si parliamo di locali tecnici prima stanza da letto eccola qui comunque comoda ci gira tranquillamente intorno 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 al letto armadio fatto a muro e balcone privato con affaccio aperto già qui si intraete qualcosa il giardino con la pergotenda ecco il balcone a confidare questo piano la cameretta eccola qui la cameretta dove loro oggi hanno i due bimbi è perfetta per sicuramente una persona con terrazzo privato e questo è veramente piacevole perché l'affaccio è aperto tantissima esposizione alla luce rientrando dentro ultimo ambiente di di questo piano il bagno anch'esso completo di tutti gli elettrodomestici tazza bidet doccia e anche questo bagno è finestrato quindi tutti e due bagni uno al piano terra e uno al primo piano sono finestrati riscendiamo quindi ricapitolando internamente ci troviamo in zona valle santa una recente costruzione in via quarona disposta su due livelli zona giorno con un grande salone cucina e un bagno con adiacente una lavanderia ripostiglio primo piano due locali tecnici sono camera matrimoniale camera singola e un ulteriore bagno e poi adesso come ultimo ultima parte del video vi sto presentando lo spazio esterno lo spazio esterno è veramente piacevole perché loro l'hanno diviso con questa pergodenda diciamo zona conviviale pranzo con gli amici con parenti parte verde che è questa qui e poi la parte iniziale dove c'è il cancello pedonale il cancello carrabile per poter parcheggiare comodamente due auto moto ed è dicendo eccola qui lì c'è il dove sono entrati l'ingresso questa è la villa quindi se stai cercando una casa indipendente con tanto spazio esterno ristrutturata in ottimo stato zona valle santa una zona molto tranquilla a 5 minuti da casa lotti contattami perché questo potrebbe essere la tua nuova casa per vendere casa puoi fare tu le foto mettendoci tutto te stesso ma con un agente remax eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi per il migliore dei modi per il migliore dei modi